cari amici nuova puntata di city report municipio 8 siamo venuti a fare un controllo di alcune situazioni che avevamo già visto e che purtroppo vedrete da soli come sono ancora oggi e qualcuna nuova ma guardate cosa ci accoglie siamo vicino al sottopasso di general govone una bella bicicletta rossa senza ruote senza praticamente nulla però legata ma non è l'unica abbiamo la bicicletta fantozzi quella senza se no no non salgono salgo questa fa male tra l'altro mancano anche le manopole qui l'hanno cannibalizzata purtroppo e questo è uno dei vari atti di vandalismo questo è quello che avanza di una bicicletta devo dire che non è stata molto intelligente legarla dalla parte del portapacchi ma comunque l'avrebbero portata via lo stesso perché ormai sono dei professionisti incredibili smontano montano in due minuti qui stiamo all'angolo con la mac mahon e voilà un po di graffiti che ci accompagnano durante questa nostra passeggiata per il municipio 8 come avete potuto vedere in questa ultima situazione di oggi addirittura abbiamo il sottopasso che ho usato come passaggio per i motorini che vi dobbiamo dire succede di tutto e di più ecco un'altra cosa che vi vogliamo far vedere durante questo percorso si sta parlando insomma della tristissima situazione successa in romagna in emilia romagna guardate qui che potrebbe essere nulla ma abbiamo tutti i tombini straotturati gli scarichi dell'acqua qui pieni di schifezze rifiuti eccetera la trascuratezza la fa da padrona ma non è la prima volta che vi facciamo vedere tutte queste cose ma ce ne abbiamo altre di nuove che andremo a vedere adesso insieme a paolo rusconi andiamo sono il manifesto per coprire le brutture di milano ma poi ve le mostro anche vestiti cestini pieni pacchetti di sigarette anche qui cavolo bisogna svuotarli questi cestini già ce ne sono pochi in giro se non la roba finisce tutte in giro ma che stanno combinando qua anche il servizio amsa guardate qua un altro cestino un po pienotto ma lascialo stare paolo dai che poi ci dicono che ce l'abbiamo con l'amsa e non è questo il caso andiamo a vedere il resto qui altri cestini secondo me quelli di amsa non ci guarderanno più se continuiamo a fargli vedere tutti i cestini che succedono in questo sottopasso che viene chiuso la sera chiaramente e che qualcuno ci fa notare come il fattore di apertura chiusura in certe ore della notte qualcuno che può andare verso l'oratorio di san gaetano o dall'altra parte del ponte potrebbe rimanere vittima di qualche acquato qua anche perché le telecamere ci sono funzionano qualcuno ce lo farà sapere da quel che vediamo noi insomma mi sembrano molto conciate i mali tra l'altro vediamo dei fili tranciati qui devo dire che qui nel municipio 8 come sottopassi siamo veramente messi bene sono proprio l'emblema della trascuratezza immondizia ma cartelli ok nel frattempo come ci diceva un nostro amico qua sotto il cavalcavia pare che ci sia il bagno andiamo a vedere anche quello nel frattempo continuiamo a guardare guardate queste sono le scale e paolo anche qui guarda questo angolino qui a scendere anche sigarette bottiglie di birra questo cos'è una noce di cocco che è un pezzo di melone ragazzi fra l'altro poi c'è la famosa storia dell'erba che non viene tagliata ecologico non ecologica e quella poi lo staremo a vedere nelle prossime puntate cosa succederà per il servizio manutenzione verde nel frattempo sentiamo anche il suono del treno che passa devo dire che qui secondo me in quanto a bottiglie spaccate non è molto bello e guarda di là ci sono dei coci di bottiglia rotta quattro i coci di bottiglie rotte e ti dico a sensazione non perché qualcuno mi abbia segnalato in particolare questa cosa però vedere tonno tutte stesse sigarette pacchetti birra eccetera qui qualcuno si ferma a mangiare che potrebbe anche andare bene se lasciasse pulito ma tanto vedo così non è andiamo continuiamo e qui invece che sarà mai successo qui dovremmo chiedere al nostro paolo rusconi cosa è successo qua sembra che è bruciato qualcosa paolo che sta inquadrando parla pure al microfono raccontaci che è successo qui beh qui una volta c'era l'impianto per le telecamere di videosorveglianza del ponte anzi del sottopasso che come avete visto non ci sono più ecco infatti ci sembrava qualcosa di strana sta roba comunque vabbè è così quindi praticamente non ci sono più le telecamere immagino perché vedo che ci sono i cavi qui tranciati vabbè poi c'è altre schifezze sacche di cemento ormai altra immondizia cose che ormai sembrano comuni nella città di milano ma che secondo me non è così non dovrebbe essere conciato in questa maniera una città anche se sono angoli magari più nascosti rispetto alle vie del centro più dove sono le vetrine anche questo armadietto qua tutto fasciato così con lo scotch è della Sdame centro manutenzione del gas bene anche questo non ci piace molto ma proseguiamo perché siamo curiosi di questo signore che fa le consegne con le biciclette che ci ha appena detto che qua si ritrovano sotto il ponte lo usano come servizio igienico andiamo a vedere se la cosa corrisponde non che abbia dei dubbi perché già da qui l'odore non è dei massimi proseguiamo la domanda è una a parte l'odore di urina che c'è ma questo qui non dovrebbe avere le telecamere anche lui una volta c'erano adesso non so se funziona perché io a vedere da qui non le vedo le telecamere erano all'inizio e alla fine sotto dove c'è le lampade ok va bene nel frattempo lo percorriamo oggi ci facciamo una bella passeggiata al profumo si il profumo anche le nostre super telecamere nuove meglio per voi che non ve lo mandino qua vedo il posto della telecamera ma non c'è niente va bene paolo usciamo allora facciamo la scala usciamo dai proseguiamo per la via mac mahon macchina in sosta e questo robo messo in mezzo così non contro il muro proprio in mezzo un ostacolo vero e proprio siti rapport